non ho la più palle idea probabilmente passo il resto della mia serata a prendere a insulti la mia chat e comunque è un bel programma se c'è dentro i miei sub non li gifto perché a pensare semplicemente che un 5 euro mio potrebbe andare a una di quelle persone non mi viene mi viene anche solo il ripreso quindi non vi gifto completamente un cazzo mi viene proprio il ripreso anche semplicemente a pensare che potrebbe andare a una di queste persone e in più godo anche perché io i 5 euro miei porco dio sono come 200 euro vostri gente che scrive in chat godo i miei 5 euro sono i 200 euro vostri io godo porco dio godo come vi compro la madre la uso come poggia a piedi porco dio ci piscio sopra vostra madre ritardati sono le frasi che più mi piacciono lo so marzo che ti piacciono l'ho detta appositamente per te in questo momento solamente perché c'eri ma vattene a fanculo flex si si flex flex poi venitemi a scrivere che gli altri fanno 30 mila spettatori che siete prima a parlare di numeri si si poi quando vi rispondiamo a flex però scrivete alma o flex a poracci poracci porco dio state state ritardati state signori polone grazie per l'euro madonna pensate tu godi mi hai dato un euro probabilmente guadagnato da tua madre pensa quanto è bella la mia vita one grazie per i bit wilde grazie per i 145 dumidu grazie per i 16 bello quanto è fantastica questa cosa viva l'umiltà non ti meriti niente di quello che hai mi merito tutto quello che ho porco dio mi merito dal dal primo all'ultimo minuto di quel soldo minuto e numero di quello che ho e godo porco dio andate a seguire gli spastici ritardati col tumore al cervello ritardati porco dio viva l'umiltà lecca mercazzo stupido stupido lecca mercazzo viva l'umiltà te sei perso te sei perso nove anni e mezzo di umiltà spastico porco dio e il carcio e il carcio ve fa male perché perché finché uno è tifoso e rosica per casa squadra sua ha perso e c'è stacca e rosica per casa squadra sua ha perso va bene quando toccate toccate per lavoro vi compro casa porco dio ritardati marzo scegli un emoticon da sbloccare disabilitato sblocca un emoticon abbonato casuale disabilitato modifica un emoticon singola disabilitato invia un messaggio in modalità solo abbonati disabilitato evidenzia il mio messaggio disabilitato ah non è non me va ho visto che eravate in quattro no no ti lascio lo spazio jack ha detto che va di lui frente tutte le persone normali normo donato dotate con un cervello normale che stanno lì o mio dio che bello cosa aggiungerà con i punti canale niente li levo tengo solo il vip a vita completamente per il meme per prendervi un po per il culo li levo tanto guarda guarda che ritardo mentale che devo avere in chat certo ovviamente il ritardo mentale arriva sempre dal calcio come i tifosi signori che fanno che fanno wow meno male abbiamo venduto questo giocatore a 20 milioni ve l'hanno date a voi 20 milioni vivete per il calcio quando non capite che le tasse che pagate in più probabilmente vanno anche a quelli che già che che lavorano nel settore del calcio vanno anche alle società porco dio quanto godo quanto godo sì perché un conto è pagare le tasse e comunque poter dire oh dannazione riesco ad avere dei soldi un conto è avere il padre perché è solamente il padre che dice cazzo da dove si arriva da dove come ho perso questi soldi è il mio figlio è il mio figlio spastico che dona gli streamer scrivendo scrivendo gli godo 5 euro e intanto paga anche le tasse e io godo e io proprio io godo signori io mi farei le pippe su queste cose mi farei proprio le pippe perché arriva arriva un momento in cui dove puoi farti le pippe addirittura non solo solo sul porno puoi farti le pippe anche su queste cose nella vita mi faccio proprio le pippe porco dio a voi hai pipa peppe euro miei porco dio sono come 200 euro vostri che figura di merda